crudo, assassino e mangiato, scosse tutto ma che è? ma che è? guardi, tra te l'hai fatto mangiare pure a mia niposa vedi te, vabbè, ho portato la mamma e mangia la caccia, no? vedi, puoi anche mangiare qua, non c'è problema alla doc, perché mia nipote lavora bene come se fosse una mia figlia alla doc e salutiamo anche la bellissima Carol e la bellissima Angela che Angela è anche mia nipote io ho due nipote e salutiamo tutta la famiglia Sassi alla doc e la famiglia Stambelli alla doc e sono mangiata lei ma che? ma che? io mi sto facendo una doccia perchè dopo la mani puzza se lo sai quando è fresco il pezzo quando il pezzo è fresco c'è un odore particolare poi dal pollico ai costaci c'è un odore strano dai dai vai bene l'andumbre a mangiare alla cucina così vi faccio vedere come si mangia il pesce cruso vai Gian Paolo sei un signore come tutti i signori che hanno collaborato in tutto poi un saluto speciale grandissimo a Sebastiano Badaiacqua Badaiacqua e teslaro a la ai aiii a 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